Con i nostri ospiti che sono in studio, con Veronica De Romani, storniamo in Italia. Perché? Perché oggi è una giornata importante, un Consiglio dei Ministri, in cui il Presidente Draghi parlerà del PNRR, perché il Professor Moavero Milanesi nelle scorse ore, in qualche modo, l'Europa ci ha fatto capire, diciamo, non ci ha strigliato, ma ci ha sollecitati a fare in fretta, a fare quelle riforme che sono necessarie affinché i fondi così importanti che serviranno per la ripresa del nostro Paese arrivino. Come la dobbiamo vivere, come dire, quelle parole che sono arrivate dall'Europa? Beh, formalmente sono e si chiamano anche nella loro denominazione delle raccomandazioni che saranno adesso poi formalizzate nel vertice dei capi di Stato e di Governo. Però in realtà sono molto di più, perché intanto ripetono all'Italia, come ad altri Stati dell'Unione Europea, ma noi guardiamo casa nostra, costantemente, ogni anno, più o meno le stesse cose oramai da anni. Quindi di fare questa e quella riforma, di fare questo e quell'intervento, in particolare di tenere i conti pubblici sotto controllo. Secondo luogo, perché fanno parte di un meccanismo europeo che è legato all'euro, che è legato all'interdipendenza tra gli Stati dell'euro, che, come sappiamo, mette tutta una serie di costrizioni sugli Stati. Ecco, non dimentichiamo mai che quando discutiamo la nostra legge di bilancio siamo sempre a discutere con l'Europa i famosi cosiddetti zero virgola, che poi significano molto come risorse. Come lo vede? Cambieranno quelle regole? Io non so quanto cambieranno in effetti. Potranno cambiare gli elementi che ne accompagnano l'applicazione, ma le regole in quanto tali non credo. E l'ultimo punto sono proprio i fondi europei. Cioè la novità di questa tornata è che non solo c'è la raccomandazione, quindi la pressione morale, ma c'è anche il rischio di perdere delle risorse importantissime che per la prima volta arrivano non dalle tasche di noi contribuenti, ma da fuori. Ricordiamo, c'è oltre 200 miliardi. Siamo il paese che di fatto, professor Bianchi, prende di più di tutti gli altri Stati europei da questo fondo che è stato immaginato durante la pandemia. Io però vi faccio vedere una storia che ben si collega al discorso che stiamo facendo. Carlotta Ricci, buongiorno. Siamo collegati da Angolo Terme, che è un paese di 2300 abitanti, in provincia di Brescia, siamo in Balcamonica. Martedì sera, intorno all'ora di cena, 20 minuti di bomba d'acqua, 35 mm di pioggia. E questo dietro di noi è stato il risultato. Lo vedete? C'è stata una frana che è scivolata proprio al ridosso delle case. Il risultato sono state 38 persone evacuate che sono state sistemate negli hotel, nelle strutture individuate dal comune o alloggiate da amici e 7 gli edifici in tutto. Allora, noi siamo in compagnia di Alessandro Morandini, che è il sindaco, a cui chiediamo com'è la situazione, che cosa sta accadendo, gli aggiornamenti. Sì, buongiorno a tutti. In questo momento stiamo lavorando in maniera alacre per mettere in sicurezza meno provvisoria l'evento calamitoso che c'è stato. Quindi si sta provvedendo alla messa in sicurezza di tutti i sottoservizi, perché purtroppo è ceduta una strada, quindi con essa anche i sottoservizi che erano al di sotto. Successivamente si passerà al lato operativo con la rimozione delle macerie e tutto ciò che serve per evitare che ci sia un nuovo percolamento di materiale sulla strada. Sindaco, questo è un territorio che anche in passato è stato interessato da eventi, ricordiamo l'alluvione del 2019. Allora, le chiedo, PNRR, fondi per la messa in sicurezza del territorio, voi come siete messi? Sì, come diceva lei, nel 2019 purtroppo siamo stati ancora colpiti da un'altra bomba d'acqua ed era stato dichiarato da Regione Lombardia poi dallo Stato centrale, lo Stato d'emergenza, per cui noi ci eravamo già messi all'opera in questi anni realizzando più di dieci interventi seguiti direttamente dal Comune e altri tre macrointerventi da parte seguiti dalla comunità montana per la messa in sicurezza del nostro territorio. Quindi in questo momento tutto sommato eravamo anche con una programmazione molto avanzata nonostante il periodo complesso che abbiamo vissuto tutti con il Covid. Adesso per quanto riguarda il PNRR ci siamo concentrati più sugli edifici pubblici quindi la messa in sicurezza della palestra e degli edifici comunali. Nel frattempo qui intorno a noi continuano i lavori di messa in sicurezza. Sì, Monica? No, 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 dicevo come dire andava tutto relativamente bene diciamo che siete anche un Comune fortunato da questo punto di vista perché ci sono l'abbiamo raccontato in questa trasmissione in molti altri comuni per esempio a Sud e manca il personale ed è molto difficile come dire produrre un bando produrre un progetto per partecipare al bando però rimanete con noi Carlotta professoressa De Romanis e poi Bianchi insomma intanto per capirci fondi del PNRR per come sono distribuiti oltre 68 miliardi per la transizione ecologica stiamo parlando evidentemente di cambiamenti climatici le bombe d'acqua come sappiamo così come siamo abituati a chiamarla a chiamarli a quello corrispondono 31 miliardi per l'istruzione e la ricerca 24 miliardi di fondi che stanno arrivando evidentemente a patto di portare a termine di realizzare quei 45 obiettivi adesso mi dirà se entro giugno ce la facciamo 18 miliardi e mezzo per la salute anche da questo punto di vista forse si poteva far di più non lo sappiamo siamo in ritardo è vero che siamo così in ritardo professoressa e se sì ce la facciamo a realizzare tutte quelle cose che dobbiamo fare per avere l'altra tranche ma in realtà stiamo sulla tabella di marcia la prima parte è stata più facile perché si trattava di distribuire risorse quando si tratta di spendere sappiamo che gli accordi tra partiti politici sono sempre facili nel 2022 invece questo anno è cominciata un'altra fase quella delle riforme che è fondamentale perché spendere non basta per crescere bisogna cambiare proprio il nostro contesto economico quindi abbiamo circa 100-105 obiettivi e qui da raggiungere entro l'anno e vorrei aggiungere questi obiettivi li abbiamo scritti noi ecco non si può dire ce lo chiede l'Europa siamo noi e il governo ovviamente che ha approvato questo piano e che ha mandato a Bruxelles con una diciamo una tabella di marcia piuttosto stretta diciamo che entro fine dell'anno dobbiamo fare quasi un'ottantina di riforme alcune molto importanti tra queste c'è quella della concorrenza di cui si parla molto in questi giorni ce la possiamo fare beh ce la dobbiamo fare proprio perché siamo noi stessi che abbiamo preso degli impegni il Premier Draghi ha parlato di credibilità di un paese e poi ce la dobbiamo fare e concludo perché il contesto è completamente cambiato rispetto a quello di un anno fa abbiamo una variabile nuova che si chiama inflazione la Banca Centrale Europea sta facendo una politica monetaria meno espansiva quindi andiamo verso una fase di tassi interesse alti quindi il denaro costerà di più è importante soprattutto dimostrare a chi compra il nostro debito pubblico che stiamo cambiando ecco dobbiamo cogliere questa opportunità a pieno cogliere questa opportunità a pieno mi sembra giusto mi sembra giusto anche sottolineare che i piani li abbiamo scritti noi e giustamente l'Europa ci dice avete scritto i piani adesso perché non vi sbrigate no a parte gli scherzi ma insomma è il modo per tradurre anche in maniera più semplice quello che stiamo dicendo c'è un problema a sud noi l'abbiamo raccontato forse c'era proprio lei in questa trasmissione quando abbiamo detto che i comuni gli enti non hanno personale per scrivere questi piani per partecipare ai bandi sì c'è un problema di attuazione c'è un problema sia delle riforme che delle risorse quanto può pesare per il raggiungimento di questi obiettivi è decisivo perché questo il recovery ci impone anche un salto culturale noi siamo abituati soprattutto al sud ad avere risorse europee in base alla rendicontazione cioè più spendi e più hai risorse questa volta cambia il meccanismo non è più in base a quanto spendi ma in base al raggiungimento di determinati obiettivi cioè tot silinido tot appunto riduzione degli sprechi delle risorse idriche che poi sono in parte quelle che determinano quindi diciamo dobbiamo farle le cose dobbiamo fare le riforme e questo è un tema nazionale poi bisogna attuare gli interventi e sul sud c'è un problema ovviamente di debolezza della pubblica amministrazione di disinvestimento nel corso di questi ultimi anni e questo rende tutto più difficile quindi noi diciamo con grande forza attenzione non basta ripartire le risorse non basta fare i bandi dobbiamo garantire che poi dove c'è più fa bisogno le risorse arrivino quindi supportiamo le amministrazioni locali favoriamo il coinvolgimento anche del settore privato penso al terzo settore penso al mondo delle imprese così da favorire la nascita dei nuovi progetti e poi finanziarli e quindi raggiungere gli obiettivi questo è un treno che passa una volta soprattutto per il mezzogiorno che ha attraversato con grande difficoltà la lunga crisi post 2008 e poi la pandemia cioè il rilancio degli investimenti legato al PNRR è veramente una strada decisiva per diciamo riconnettere il paese e far sì che cresca un po' di più ed è anche decisivo per l'Europa perché è l'intera Europa che si gioca sulla riduzione di disuguaglianze la sua carta di una nuova Europa più solidale e questo dipende anche in parte molto dal sud non c'è dubbio che in questo momento l'Europa è alle prese con un'altra questione che me lo direte voi può rischiare di compromettere questo grande piano di ripresa e resilienza